Un progetto d'accoglienza promosso da Confesercenti è presentato al Circolo Unione, un corso per chi si troverà domani a far da front line e filtro con turisti e utenti in visita alla città. Noi puntiamo esclusivamente in un mercato così competitivo sulla qualità, qualità non solo nella presentazione dell'utilizzo delle materie prima, ma qualità del servizio. Ecco, abbiamo organizzato questo corso che ha la durata di 62 ore con 20 ore di inglese perché è importante per Siracusa che punta sul turismo avere del personale che almeno riescono a avere la conoscenza di un centinaio di vocaboli di inglese. Accoglienza come capacità di relazionarsi con cultura e lingue diverse. Permettimi di dire che è stato veramente un piacere, ho trovato un gruppo affiatato, compatto e hanno dimostrato da subito un grande interesse per la lingua inglese. Abbiamo iniziato da zero perché ovviamente i livelli erano diversi, però i risultati sono soddisfacenti, mi auspicio che loro possono coltivare ovviamente e approfondire le conoscenze acquisite durante questi 20 ore di corso. Ma la chiave dell'offerta turistica non soltanto è anche qualità e organizzazione. Io mi sono occupato della qualità intesa come benessere organizzativo, sia all'interno dello staff e sia verso l'utenza esterna, quindi abbiamo toccato tutti i temi della qualità, qualità della comunicazione, qualità del servizio. Il frutto dell'esperienza e della voglia di creare trasforma la cucina e i suoi elementi in arte e piacere della presentazione. Questo è un corso professionale organizzato dalla Conf Esergenti. Oggi appunto quello che possiamo ammirare è un corso professionale e si basa sull'intaglio dei vegetali. Io sono responsabile per quanto riguarda questo corso, appunto degli intagli dei vegetali. L'intaglio dei vegetali è un'arte molto antica che nasce intorno al 1300. La tecnica utilizzata è quella Thai. L'unico strumento utilizzato è lo stiletto otolandese, che è solamente un coltellino. E tutto viene fatto manualmente, senza utilizzare sgorbi, scavini, eccetera, eccetera. Questi che abbiamo fatto appunto sono degli addobbi che assolutamente troviamo nei buffet, quali per esempio matrimoni, banchetti, cerimone. È un allestimento che viene fatto per i tavoli. Grazie a tutti.